A noi italiane le borse piacciono tantissimo, a me in particolare, e devo dire che noi in Italia siamo molto fortunate perché abbiamo una incredibile opportunità di scegliere tra brand bravissimi e meravigliosi. E oggi, grazie a Tisca di News, vi racconto la storia di una giovanissima designer, Elena Longhi, e del suo brand di borse, Ninael. Perché sono belle le borse di Elena? Perché sono belle qualitativamente, ma sono anche molto particolari ed eleganti. Cosa vuol dire qualitativamente? Che Elena usa dei materiali molto buoni, delle ottime rifiniture, degli ottimi dettagli. Ma la cosa divertente che le rende particolari sono le rifiniture con l'ottone. Cioè, ci sono delle lunghissime frange, belle, che sono cite alla borsa con una particolare procedura top secret. Le frange contribuiscono a rendere le borse eleganti perché accompagnano con un movimento sinuoso i movimenti delle donne. Ma Elena non è solo brava perché ha creato un fantastico brand. È brava perché, come tutti i giovani designer, non solo dà un contributo al Made in Italy creando un oggetto unico e fatto bene, ma anche e soprattutto perché sponsorizza il Made in Italy. Cosa vuol dire? Che Elena ha creato un evento particolare insieme ad altri designer e in collaborazione col Baglioni Hotel, cioè il massimo dell'hotelleria italiana, presenta il Made in Italy nel mondo. Il primo evento sarà a Londra con il Baglioni Hotel. Bravissima!